Buonasera ragazzi benvenuti sul canale e benvenuti in questo nuovo quinto episodio della serie di Last of Us Part 2 Nello scorso episodio è successo veramente di tutto Mentre andavamo a cercare gli assassini di Joel abbiamo scoperto una cosa veramente molto molto importante Ovvero che Dina è incinta il che ha reso i rapporti tra Dina e Ellie un pochino tesi Quindi adesso andiamo subito a vedere come si evolverà la cosa Nel frattempo ci siamo rifugiati qui in questo teatro e stiamo andando in giro a cercare un po' di provviste immagino Ok guardiamo la corrente Ah era proprio un cinema non era un teatro Parlando un po' di quello che è successo Da un lato capisco Dina nel senso che sicuramente il fatto che abbia voluto aiutare Ellie in un momento difficile come quello che abbiamo affrontato è giustificato Questo schifo Forse non eri questo grande elettricista Effettivamente Dall'altro però se sapeva effettivamente di essere incinta Imbattersi in un'avventura del genere forse non è stata la migliore delle scelte Anche perché in questo modo rallenta Ellie e non di poco Che cos'è? Ok Ok chiavi che non fanno mai male Certo non serviva la corrente per trovarla ma vabbè Parlando invece del VLF e delle Iene Abbiamo scoperto che non siamo gli unici nemici appunto del VLF Che quindi esiste questo gruppo di ribelli probabilmente Non abbiamo ancora ben capito di cosa si tratta Ma questo gruppo che comunque va contro il VLF E con cui magari potremmo diventare alleati In tutto ciò ci resta ancora da trovare Tommy Che sappiamo essere andato anche lui alla vendetta di Joel però da solo Quindi abbiamo sempre trovato qualche sua traccia Ma non sappiamo di preciso che fine abbia fatto Ok Perfetto Cinema aperto qua Non vorrei che ci fosse qualche infetto però Da brividi Non ci credo 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 Non voglio rovinare ancora una volta Le canzoni di Elia Joy Non ci credo Non ci credo Non ci credo No ci credo To me lose myself Comincia quasi a sembrare così Ah, faccio pena No Ti mancano soltanto i calli sulle dita Già Dai andiamo È questo? Sì Ah, cacchio Oh, ci facciamo un bel flashback Di Joe e Ellie Perché vuoi rovinarti la sorpresa ora? Chissà È un dinosauro? Smettila di insistere, non te lo dico Vediamo È un elefante? È una cabrio? Non indovinerai È un... Sta zetta e cammina Ho paura per questo flashbackino Potrebbero scendere le lacrime Ma sei impazzito? Dovresti vedere la tua faccia ora E se fossi annegata? Perché dovresti annegare? Lavora sull'autostima, piccola Sì, ridi, vecchietto Questa me la paghi Da quella parte Ti odio Migliori a vista d'occhio Agitare non vuol dire agitarsi Che solo... Fingere l'acqua con tutto il braccio Bla, bla, bla Esatto Vedo che recepisci Ellie, vieni Guarda Vedi quel cervo? Visto? Di là, guarda Sì Ho visto Sì Sembra... Allora com'è? Rifrescante Non è bello essere lanciato in acqua, vero? Beh In realtà dobbiamo comunque procedere a nuoto Ti ho fregato E questo ti fa arrabbiare Sì Questo mi fa parecchio arrabbiare Muoviti Ah Ho un fastidio interiore nel sapere che tutta roba che andano nello zaino si è bagnata Dobbiamo passare su occhio Fai un bel respiro Sì Nessun problema Questo è veramente raga Un piccolo tocco di classe Secondo me ci sta un botto E spero che non sia l'unico flashback Perché comunque È un po' Sono un po' i momenti in cui Joel e Ellie hanno legato per davvero Perché noi sì abbiamo vissuto il viaggio Il mio professore di storia delle medie che mi chiede scusa per essere stato un coglione? Come scusa? Litigavo con un'amica Diceva che le luci erano terroriste Finivamo sempre in punizione Dovresti smettere di arrabbiarti e portare che ti dicono gli altri Difficile con gli idioti Provaci allora Un altro bel tutto Dove mi stai portando? Vedete appunto Diciamo che è come fosse un approfondimento del primo capitolo In cui cerchiamo di capire meglio Il rapporto che c'è tra questi due L'unica volta in cui Questo rapporto nasce in una situazione tranquilla Perché Tutto il viaggio che abbiamo vissuto nel primo capitolo Era tutt'altro che tranquillo Vieni Ok Al diavolo Ci rinuncio Era ora Ma Per caso è un'enorme collezione di fumetti Anzi no Una collezione di DVD Sì E quale delle due? Sì E basta Ma magari di laser disc Ne ho sentito parlare Era veramente un dinosauro Eccoci Oddio è un dinosauro Niente meno Joel Sorpresa Porca merda Porca vacca Un dinosauro Cioè C'era la brusa la prima Era fortissimo questa ragazza Museo di storia naturale del Wyoming Ma come l'hai trovato? Maria È lei che ne ha parlato Ho pensato potesse piacere Hai pensato bene Questo cos'è? Ehm Un libro Ma sono i dinosauri Mh Wow Vabbè Capito? Noi stiamo vivendo la classica Dita al museo padro e figlia Che è un movimento che non Non ci saremmo mai potuti immaginare Nel primo capitolo No ti prego No ci saranno i peggior agni Guarda che artigli Quello è un veloci raptor In realtà è un di Di noi Nico Sono quasi sicuro che siano veloci raptor Già O almeno li chiamavano così in quel film che ho visto E testa piccola Joel Guarda È un Dinosauro con il cappello Si chiama cappellosauro Non fa una piega Visitavi spesso musei Sì Sì Sara Mi adorava Non esagerami Ha trascinato in ogni singolo museo del Texas Sara appunto era la figlia di Joel Aveva detto come aveva parlato Del giorno in cui è morta Praticamente per chi non avesse giocato il primo capitolo Non avesse visto di cosa stiamo parlando Il giorno in cui Sapevi che c'era No Non fa per te Meglio tornare indietro Oh ma smettila Dicevo il giorno in cui è scoppiata la pandemia Con tutto il casino Delle infezioni Sara è stata uccisa da un soldato Perché essenzialmente mentre Joel e Sara Cercavano di attraversare il confine della città Un soldato gli ha sparato Non si capisce bene per quale motivo Forse perché nel casino generale Ha ricevuto l'ordine Insomma E Sara è morta Mentre Joel è riuscita a sopravvivere Wow Ehi aspetta un attimo Stai andando in orbita Mi servirà un casco Certo Dove ho la testa? Bellissimo Che odore c'è di dentro? Di spazio E polvere Dopo di te Occhio alla testa Wow È pazzesco Guarda quanti sono questi comandi È incredibile, cazzo Insomma Riesci a immaginare com'è Buon compleanno, piccola Che cos'è? Questo è un pezzo di storia Un reperto raro Prendila Ora chiudi gli occhi Ne varrà la pena Ok Ok 30 secondes and counting Astronauts support it feels good T-minus 25 seconds T-minus 15 seconds Guidance is internal 12 11 10 9 Ignition sequence start 5 5 4 3 2 1 0 All engines in London Liftoff We have a liftoff 32 minutes Half the hour Liftoff on Apollo 11 2 1 1 1 2 Ne è valsa la pena. E c'è bisogno di chiedermelo. Non sei di che, piccola. Che ne diresti se continuassimo a cercare? Sì, ok. Ok. Ehi, benvenuta sulla terra. Sì. E comunque in tutto questo casino non bisogna dimenticare che Ellie è una ragazzina. Qui è già un attimino più cresciuta, però rimane una ragazzina. E questo è un aspetto che assolutamente finora non si è mai esplorato. Dicevo, questo è un aspetto che non si è mai esplorato se non nel DLC, ma già nel DLC, insomma... Dicevo, già nel DLC comunque si vede questa... Cioè, il DLC è proprio la transizione, secondo me, tra la Ellie bambina e quello che poi è diventata. Voglio un bel tuffo! Non possiamo fermarci! Geronimo! Morto. Non male. Ehi, dammi una spinta. Ehm, non lo so... Ti apro io la porta. Coraggio, non molliamo ora. Forza! Vai! Dai! Ok, brutte notizie. Qui la porta è bloccata. Beh, vedi se trovi un altro ingresso. Io faccio il giro dall'esterno. Ok, sta attento. Sta attento tu. Dinosauri dappertutto! Ho come l'impressione che tutto questo non andrà a finire bene. Gli serviva un abbraccio. Non fa morire l'umonismo di Ellie è... È devastante. È troppo buio qui. Eh già. I quattro soldati al cancello, l'ultimo piangeva. Oh, merda! No, eh. La donna che abbiamo torturato è morta. Soffocata dal suo sangue. Mamma mia, che tragedia. Le persone del frugale le abbiamo qui c'è dentro e cosparse di benzina. Ma chi è tutta sta roba così macabra? Non c'è luce. Stupidi animali finti. Merda! È lì! Sono qui! Che diavolo era? Solo un animale. Ok, muoviamoci. Voglio accendere un falò prima che faccia buio. Forza. Non c'è luce. Grazie a tutti Grazie a tutti Perché già venivano pubblicizzati come un movimento terroristico Poi il fallimento ha portato alla luce quello che erano veramente insomma Perlomeno quello che la gente pensava di loro Ehi Quanto sono sexy Uno schianto L'hai riparata? Si era staccato un filo L'antenna Hanno trovato il caos alla scuola Bene Questo tizio Owen È scomparso Magari l'ha preso Tommy Magari Lei invece? Ancora niente Unità Romeo Vi vogliono al sito 2 Ripeto Trasferitevi al sito 2 Confermato Allora I numeri Sono postazioni Lo studio tv dove eravamo È il 6 Le comunicazioni arrivano spesso dal 2 Credo sia la loro base È utile Senti Ieri sera è stato Stupido Vittime rinvenute al 14 Tutte le unità a rapporto Passo Missito 13 Unità Lima in arrivo Quante iene? Passo Nessuna iene Un intruso Un maschio è armato Un intruso maschio? Tommy Dov'è il 14? Non sono sicura al 100% Ok Prova Beh Se questo è il 7 Mentre il 12 è questo Quaggiù Penso sia qui In questo quartiere Ilcrest Ok Tina Sì Non va bene Ehi Lo troverò ok Tu continua a spiarli Sì ok Aspetta Dammi la mano È un portafortuna Non credo alla fortuna Ma io sì È un portafortuna Ok Ok Icrest Così il posto è questo Sì Direi che è questo Deve essere Tommy Merda Ok Ok Di incontrare Tommy Veramente Ok Per la prima volta Incontriamo i cani E vedete che E vedete che Tenendo premuto R1 Possiamo Riusciamo a vedere La traccia Che i cani Che i cani Seguono Cioè I cani ci vedono Anche Attraverso i muri Anche se Non ci vedono direttamente I cani Ci hanno usato E ci percepiscono Infatti No Non è vero E poi ci tocca No Non ce la posso fare A picchiare il cagnolino No Povero Ok Per fortuna È sprofondato Non so dove Cosa sono Infetti Sono infetti Sono Uno Shambler Che minchia è uno Shambler Che minchia è uno Shambler Che cosa fai Questo non credo Ti lo butta giù Questo Non Fuggi 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 Perché hai preso Il mattone Lo shambler È brutto Raga Però in qualche modo Morirà Ah ecco Aspetta Questo mi esplode Infatti Ok GG Per lo shambler E qui possiamo Prendere le frecce Il che vuol dire Che a breve Troveremo anche Un arco L'arco diciamo Che è l'arma L'arma da Porca putta Cosa è stato L'arco È l'arma da Stealth Per eccezione Perché Non fa rumore Però non è nemmeno Facilissimo Da usare Perché non è molto Precisa Porca miseria E chi è questo Questa è brutta Che roba è È tipo È tipo Non lo so Che roba c'ha Però c'ha E dai C'ha il fungo Che gli esce Un po' Tutti Tutti Beh Che schifo Amica Mi ha lasciato One shot Con tre colpi C'è l'arco Non sa per quale motivo Ok Possiamo farci le frecce Adesso Come dicevo L'arco è l'arma Stealth Per eccezione Perché Che appunto Prende anche Distanze molto lunghe E Non fa rumore Quindi è molto Molto comodo Solo che bisogna Prendere in testa Ecco per esempio qua C'è un poligono Per l'arco Vedete Se tendiamo al massimo La freccia va dritta Però comunque Un pochino si muove E più lontano Tiriamo Più ovviamente Scende rispetto Alla testa Ora ho buttato Tutte le frecce Ma teoricamente Le posso riprendere Infatti Facciamo che la difficoltà Dell'arco È questa Ovvero Il riuscire A tirare per bene In testa Perché se non Becchi in testa Ti cioccano poi Ecco per esempio Potremmo fare Pratica qua Una ragazza Dove è andata Non lo so Ma quello stronzo È vicino Merda I bersagli Sono due Quel fumo Da dove viene Ha fatto saltare Un camion Perché non l'avete Fermato Dobbiamo Trovarli Voglio quegli Intrusi Del cazzo Per esempio Da questa distanza Teoricamente Dovrebbe essere Abbastanza facile Prendere in testa E infatti Il cane si trova Anche un po' Spaisato Però mi fa Mi fa Signi uccidere i cani Raga Poveri cagnolini Dove c'è Questo Vediamo Magari se riusciamo A farlo Da dietro Sì Che questo Non c'è Il cane Quindi Lo riusciamo Ad agguantare Ah Questa Questa Dove stanno Quest'altro Allì c'è Uno col cane E qui è tesa La situazione Sono Super one Ci stanno Sti cani Che sono Veramente Un Maruto Ecco Alla recinzione Mannaggia i cani Mannaggia Salta 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 Ecco Dai Dai no Ups 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 Dai no Parca cazzo Niente Non ho colpi Non posso costruire Medikit Non posso Fare Una ceppa Se non trovo Tommy Che Mi cura L'anima Zitta Ecco Perfetto di colpi Di questo Non ho colpi Di niente Ok Qui c'è il camion Che era esploso Quindi io spero Che ci sia anche Tommy Mi da qualche parte E tu che Cosa ci fai qui Come potevo Lasciarvi da sole Jesse Dov'è Dina È al sicuro È solo malata E che cosa Sta bene Invediamoci È andata di là Cazzo Sono tanti Ti fa male la gamba? No Non è niente I tuoi amici Mi hanno attaccato Senza neanche avvisare Dimmi che non eri da solo Risparmiami la predica Sei un coglione Lo sai Vero? Sì Ok Vedi il coglione È questo il piano? Dobbiamo andarcene da qui Ok Sei pronta? Sì E ancora una volta Ci hanno baitato per bene Dal trailer questa scena Ci avevano fatto credere Che Era Joel Che l'aveva catturata Insomma Che l'aveva Trattenuta Certo Sarebbe stato parecchio strano Perché Da Da dietro È una tomba Però Raga Penso che Il loro obiettivo Sarà Di continuare a farci sperare Che Joel Non sia morto In qualche modo Vai giù Vai giù Cosa? Chi? Ha le chiavi? A posto? Ma non Un furgone Via Jesse Vola come il vento Ok Venga Ci provi Di più Ah 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 Jesse Portaci via Da qui Non 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 Cazzo Cazzo Attento Alle Gambe Non Devo La Motire Anche Devo Davide Vai Vai Guarda 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 Voi! 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 No, 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 no. No, 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 no. Su, andiamo. Grazie. Di qua. Ok. Dina! Oh, mio Dio. Oh, Jesse. Ciao, Dina. Ehi, stai bene? Sì, mi serve solo una dormita. È meglio entrare. Sì, ok, vieni. Piano. Come hai superato, Maria? Sono un ninja. I guai dei miei amici sono i miei. Sei guarita? Ah, è... Solo un mal di stomaco. Vieni. Mettiti comodo, ok? No, no, no. Ah, non devi, davvero. No, smettila. Quando sei partito da Jackson? È il giorno dopo di voi. Ma in Oregon ho trovato troppo nere. Poi ho fatto tirate da 18 ore per raggiungerlo. Ah, sì. Non posso farle un regalo e chiederla lì? Ok, pretendo delle scuole. Anno. Anno. Eh? Mi stai ascoltando? Sì. Sì, certo. Ok. Comunque... Ok, ragazzi. Quindi, anche Jesse si aggiunge alla nostra comitiva. Io direi che per questo secondo flashback con Tommy ce lo teniamo per il prossimo episodio, eh? Nel prossimo episodio, quindi, continueremo a cercare Tommy. Adesso abbiamo anche Jesse e Dean. Tra l'altro, mi è venuto in mente che se Jesse è l'ex di Dean, allora il bambino, dato che non penso sia di Ellie, sarà, penso, proprio suo. Quindi, nel prossimo episodio andremo a vedere come affronteremo questo argomento. Andremo a continuare a cercare Tommy. Detto questo, vi direi che se vi è piaciuto, lasciate like, commentate e condividetelo. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.